Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi continuano a tenere banco sui social con la loro storia d'amore. I due, che si stanno godendo un periodo di vacanza insieme, tengono aggiornati tantissimi fan che li seguono su quello che accade nelle loro vite. Proprio in queste ore il giovane ballerino lanciato dalla scuola di amici di Maria De Filippi. Ha raccontato ai fan anche di una disavventura che ha vissuto per colpa del suo fidanzato. Zorzi, infatti, durante una gara di solletico ha ferito involontariamente il giovane Stanzani. Nel dettaglio, sui sociali il ballerino ha mostrato ai fan il segno della ferita che si era fatto in prossimità dell'occhio, causata proprio dal suo fidanzato Tommaso Zorzi. Quando il solletico finisce male, ha scritto Stanzani nella didascalia della story che ha scelto di condividere sui social. Mentre si vedeva Zorzi che cercava di dargli un bacio, quasi a voler farsi perdonare per quanto avesse fatto ai danni del suo giovanissimo fidanzato. Subito dopo, poi, Stanzani ha fatto anche un'altra story in cui ha voluto fare degli ulteriori chiarimenti su quanto fosse successo durante questo momento goliardico con il suo fidanzato, finito male. Ovviamente raga non è che mi ha tirato un pugno, ha precisato Tommaso Stanzani che poi è scoppiato a ridere proprio assieme al vincitore dell'ultima edizione del grande fratello VIP, anche lui presente nella story. Insomma malgrado la piccola disavventura, tra Tommaso Zorzi e Stanzani tutto prosegue nel migliore dei modi. La love story ormai è diventata di dominio pubblico e, recentemente, anche il ballerino lanciato dalla scuola di Maria De Filippi. Ha ufficializzato a tutti gli effetti questa relazione. Stanzani, infatti, ha postato i primi scatti che lo ritraggono felice e sorridente al fianco del suo fidanzato, immagini che hanno fatto subito incetta di like e commenti da parte dei numerosi fan che fanno il tifo per questa coppia. Intanto si avvicina a settembre e, nella prossima stagione televisiva 2021-2022, Zorzi sarà impegnato con nuove avventure professionali che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo televisivo. Il vincitore del GF VIP 5, infatti, sarà in giuria nella prima edizione di Drag Race Italia. Il talent show dedicato al mondo delle drag queen, che sarà visibile sulla piattaforma Discovery, alla quale bisognerà abbonarsi per vedere le varie puntate del programma con protagonista Zorzi.